Allora, elettricità futura, Presidenta Costino Rerebaotengo, con lei riparto anche da quello che ha detto Almeloni perché ha parlato di rinnovabili anche in termini convincenti per adesso? Anche perché voi venite dal precedente governo dove non è che stavate proprio simpaticissimi al Ministro uscente, non è che vi amasse alla follia? No, ma diciamo non è che dovesse amarci. Abbiamo certamente avuto col governo precedente e anche con Cingolani che peraltro è persona che stimo delle incomprensioni perché noi riteniamo come settore che si debbano raggiungere gli obiettivi che abbiamo approvato come è stato appena ricordato anche in Europa di decarbonizzazione al 55% e quindi abbiamo declinato perché nel frattempo ci era stato promesso prima per due anni fa, poi per l'anno scorso, per quest'anno, l'aggiornamento del PNIE, cioè il Piano Nazionale Energia e Clima, aggiornamento che non c'è stato, ma comunque in sintesi se vogliamo decarbonizzare nell'intorno del 55% che poi per l'Italia tratta sempre e chiederà di farlo al 50, di farlo al 45, ma abbiamo come settore elettrico declinato con chiarezza e presentato lo scorso, questo diciamo l'appena passato 21 giugno il piano che prevede di installare entro il 2030 85 gigawatt di nuovi impianti fer, prevalentemente circa il 70% è fotovoltaico e fotovoltaico e il 30% diciamo 25% eolico e il rimanente 5% sono idroelettrico laddove si può, geotermia ha diverse entalpie e un po' di biomasse, ricordo che tra l'altro in Italia abbiamo una quantità importante anche energia elettrica prodotta con i bioliquidi che la cui periodo di sostegno sta terminando e quindi si pone indubbiamente anche lì circa 8 terawatt che potrebbero venire a mancare rispetto agli obiettivi che abbiamo al 2030. quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto agli ultimi 8 anni in cui mediamente abbiamo fatto un gigawatt all'anno di potenza dobbiamo passare, visto che ne rimangono 8, ad almeno 10. Ecco su questo diciamo come piano col governo il 21 giugno di quest'anno lo ricordo bene perché è anche l'anniversario del mio matrimonio quindi in realtà avendo fissato quell'assemblea pubblica mi è costato come dire un'incomprensione quindi è chiaro che cosa dobbiamo fare e quindi non possiamo più aspettare che il governo il precedente avrebbe dovuto entro giugno di quest'anno entro il 15 giugno secondo l'area 2 emanare i principi di aree edone e le regioni avrebbero dovuto entro fine anno adottarli e quindi identificare le aree edone insomma tutto questo non è successo quindi noi recentemente abbiamo scritto direttamente tra l'altro nel periodo di interregno tra un governo e l'altro ai governatori e agli 8.700 circa 800 comuni italiani e dicendo sentite non è stato fatto questo non è stato fatto l'altro non è stato aggiornato il PNIEC questo è sottointeso nella lettera però voi una cosa è chiara non basta che vi lamentiate che non siete in grado di pagare le bollette o alcuni comuni ti sono lamentati rispetto al blocco delle tariffe dei pochi impianti fotovoltaici che hanno realizzati ma voi dovete immediatamente attrezzare i vostri uffici perché devono passare da 1 gigawatt di autorizzazione all'anno 10 gigawatt allora siccome nella mia città da alcuni anni per avere una carta identità ci vogliono 6 mesi come in fondo aspettare 7 anni per avere un impianto che richiede 33 autorizzazioni la chiamano unica ma ce ne vogliono 33 e effettivamente non sembra neanche che ci voglia così tanto tempo però dovete fare questo passo e questo passo significa che dovete immediatamente assumere questi ragazzi che in questo momento hanno un reddito di cittadinanza metteteli negli uffici pagategli lo stipendio che è giusto pagare e fateli lavorare perché devono essere tra l'altro formati anche in competenze devono sapere quello che vogliono fare perché come settore non vorremmo ovviamente fare delle cose orrende e devono anche avere gli strumenti per poterlo fare quindi se c'era una persona prima e ne dobbiamo avere almeno 10 dovete attrezzare altri 9 pc le loro mail sembrano banalità ma in un'amministrazione pubblica ci vuole circa un anno per fare tutto questo quindi se lo fanno quindi questo è il punto devo dire che questa lettera ha avuto un certo successo ci sono state delle risposte che ho trovato anche passatemi il termine tenere perché alcuni governatori ci hanno chiamato o gli assessori hanno detto ma allora spiegateci meglio cosa dobbiamo fare quando gli spieghiamo la banalità evidentemente del messaggio effettivamente poi diciamo ma noi per aggiornare il nostro piano regionale energie e clima però dovremmo avere il PNIE cioè è sempre colpa di qualcun altro e poi non ci sono i principi su cui noi definiamo le aree idonee ma non ci interessa che voi definiate le aree idonee le aree idonee sono tutte quelle non vincolate con me da uno studio interessante fatto da Terna che rappresenta circa il 27% del territorio italiano quindi Terna e SNAM non so bene perché SNAM ma comunque insieme hanno definito che il 27% ha fatto tutte queste analisi comunque complesse di mettere tutti i vincoli paesagistici diciamo delle parti naturali geologici sismologici quindi tutto quello che non è vincolato è idoneo tirato tutto via diciamo è quello idoneo allora noi di questo 27% che è comunque quasi un terzo del paese noi abbiamo bisogno per fare queste 85 gigawatt dello 0,3% del territorio italiano che uno dice lo 0,3% è tantissimo e tanto o poco sono 100.000 ettari 100.000 ettari che rappresentano lo 0,3% non è un'enormità per tagliare 20 miliardi di metri cubi di gas che i prezzi di oggi vuol dire risparmiare da quelli di oggi qualcuno dice che aumenterà tantissimo il gas diciamo al 130 euro a megawattora vuol dire risparmiare 30 miliardi l'anno sulla nostra bilancia dei pagamenti quindi vuol dire evidentemente dare un grande vantaggio alle aziende tra l'altro realizzare questi 85 gigawatt ci darebbe la possibilità di avviare anche nella filiera perché noi qui tutti pensiamo se facessimo un test e vi facessi alzare la mano cosa che non vi farò fare che noi siamo gravamente deficitari dal punto di vista di attrezzature impianti per le energie rinnovabili cioè che importiamo nel paese molto di più di quanto esportiamo non è vero prendete lo studio di Intesa San Paolo c'è un magnifico studio fatto molto bene dove spiega che sistematicamente abbiamo una bilancia di quanto importiamo e di quanto esportiamo assolutamente attiva e tra l'altro l'industria è molto resiliente perché anche nel periodo peggiore del Covid mentre le esportazioni italiane sono scese di oltre il 10% nel settore delle rinnovabili diciamo dei beni legati alla costruzione degli impianti dei rinnovabili sono scesi solo del 2% quindi andiamo molto meglio di quello che pensiamo credo che questa fiera sia anche una dimostrazione tra l'altro la più grande di sempre in termine di numero di stand e superficie tanta che hanno deciso di dividerla in due e fare quindi due quella più sulle energie e quella più diciamo sull'ambiente credo che sia un'ottima dimostrazione quindi lo possiamo fare però dobbiamo avere la forza a tutti i livelli e a questo punto dai comuni e dalle regioni di volerlo fare perché quando a fine luglio il governo ha provato comunque a trasferire proprio prima di lasciare le postazioni un principio ovviamente le regioni tutte sono in sorte dicendo no ma noi in la Valle d'Aosta siamo tutti in montagna abbiamo i boschi che abbiamo qui non possiamo usare questi principi la Lombardia dice ma noi vogliamo fare almeno il 40% della nuova potenza rinnovabile sui capannoni perché siamo pieni di fabbriche eccetera quindi è vero cioè tra l'altro un principio che funzioni per le regioni d'Italia così diverse proprio dal punto di vista geografico industriale eccetera è un non senso quindi davvero dobbiamo forse essere più concreti perché se non in un momento così in cui l'energia elettrica è salita fino a 10 volte il prezzo normale e quella del gas a 15 e se non è questo momento diciamo di energia in cui dovremmo fare quadrato cioè mi chiedo quando se non ora quando è una famosa domanda che ci rifacciamo ogni volta e perché non hanno fatto quegli atti che erano previsti dopo il 21 giugno cioè non è che non ci fosse un governo c'era un governo in carica ma in realtà a quello diciamo non lo so pensavano evidentemente già probabilmente al post ma non è facile perché quando poi uno dice proviamo a dare un principio per definire le aree idonee o uno da un principio che sono idonee tutte quelle non idonee e quindi le regioni tutte quelle non vincolate esatto e quindi le regioni devono darsi da fare e poi immediatamente dopo quindi è questo che tutti cercano di discutere sul primo principio perché immediatamente dopo ma allora quanto ne devo fare io rispetto a un'altra regione allora nell'interlocuzione che faccio adesso perché ho cercato come dire di trovare un sistema allora il sistema che ho detto facciamo così proprio prendiamo la base minima se noi abbiamo bisogno di 100.000 ettari per fare questi impianti ricordo solo lo 0,3% della superficie italiana prendiamo lo 0,3% della regione diciamo guardate voi avete bisogno di trovare 15.000 ettari 10.000 eccetera su cui potete costruire questa tipologia di impianti quindi qualcuna al vento qualcuna no qualcuna può ancora fare degli impianti idroelettrici altre non hanno l'acqua quindi non c'è storia e quindi noi li mettiamo e lì cade sempre l'asino perché dice no ma io come tutto questo allora cominciano a ragionare in termini di unità di campi da calcio io che non seguo il calcio mi perdo completamente dico ma scusi ma cosa c'entra nei campi da calcio no perché i cittadini pensano alla grandezza cioè non sanno quanto è 10.000 metri quadrati ma sanno quanto è un campo da calcio comunque sia quindi avevo fatto il calcolo che ho dimenticato i 100.000 quanti campi da calcio sono però il problema è lì però quindi la resistenza è culturale prima ancora che burocratica credo di sì cioè nessuno vuole perché poi continuano a chiamarlo dice ma è il burden sharing di questi 85 gigawatt allora dico ma se voi andaste a rileggere quello che vi abbiamo scritto sempre il 21 ma di ottobre dell'anno scorso il giorno del mio matrimonio sono particolarmente produttivo e voi vedreste che vi abbiamo spiegato che non si tratta di un burden sharing ma è un opportunity sharing perché realizzare 85.000 85 gigawatt di nuovi impianti fair vuol dire includendo anche il settore industriale italiano realizzare quasi mezzo milione di nuovi posti di lavoro e avere dei benefici economici di valore aggiunto nel nostro paese quindi nei prossimi otto anni di circa 350 miliardi quindi se io fossi un governatore qualunque di una regione d'Italia vorrei attrarre il più possibile di questa tra virgolette manna perché vorrà dire che ci sono dei posti di lavoro gli impianti durano vent'anni almeno qualcuno li deve costruire li deve gestire deve gestire le reti che evidentemente ricevono questa energia e che la distribuiscono c'è anche un'energia a costo più basso e non ultimo questa energia costa enormemente meno dell'energia che produciamo oggi infatti grazie Presidente grazie per il suo intervento ci portiamo a casa questa differenza che è fondamentale tra il burden sharing e l'opportunity sharing cioè stiamo dividendo un peso uno sforzo un problema o stiamo dividendo partecipando un'opportunità perché se la percezione è che è un problema non abbiamo capito che è un'opportunità è un'opportunità